Buonasera a tutti, riprendiamo il seminario che affronta il tema della sovranità, della democrazia in Europa e della governance economica. Le relazioni si sono tenute la settimana scorsa, quella di Andrea Amato ha affrontato soprattutto il tema della sovranità e della democrazia, quella di Ernesto Screpanti, quella della governance economica e quella di Paola Boffo, il semestre europeo. Queste relazioni, quella di Andrea e quella di Paola, sono state anche pubblicate da Transform, quindi le avete volute pure leggere e approfondire. Quella di Ernesto invece c'è stata la registrazione, quindi penso che abbiate un po' tutti gli elementi avete avuto per poter anche approfondire questi temi. Questi temi che in qualche modo abbiamo solo affrontato, ma in una dinamica che vede un'evoluzione, perché come ci ha ricordato Ernesto, noi siamo alla proposta della commissione sulla governance e come ci ha ricordato Paola, per esempio il PNRR entrerà nel semestre europeo e quindi sarà dentro quella valutazione. In più, sul tema sovranità e democrazia, Andrea ci ha fatto delle sintesi di alcune problematiche, ma a questo proposito ad esempio non abbiamo affrontato tutto il dibattito sul futuro dell'Europa, che come sapete è anche questo aperto con varie proposte, con vari orientamenti, quindi forse sarà il caso che in futuro noi torniamo su alcuni di questi temi. Alcuni partecipanti ci raggiungeranno più tardi, anche perché vi è una coincidenza tra la plenaria del Parlamento europeo, che iniziava esattamente alle 17, che affronta il penoso tema dei finanziamenti del Qatar ad alcuni parlamentari e ad alcuni ex parlamentari, assistenti, sindacalisti. È una vicenda molto dolorosa che crea enorme sconcerto e che ha moltissime implicazioni, perché entra proprio nelle funzioni parlamentari, una questione di grandissima delicatezza. Adesso la magistratura farà i suoi approfondimenti, però io quello che vorrei dire è che dobbiamo porre molto attenzione all'evoluzione di questa storia, intanto perché ce n'è un uso politico che già vediamo e secondo perché tocca la funzione del parlamentare, rispetto al quale però io questo vorrei dire e spero che Roberto mi potrà confortare essendo stato parlamentare, cioè quel Parlamento non è una giungla, non è una terra di nessuno, è al di là delle leggi dello Stato belga e dello Stato italiano, esistono i regolamenti europei, per cui ad esempio sulle interferenze o i doni che i parlamentari possono ricevere c'è un regolamento ben preciso, così come sulla questione della presenza delle lobby e del ruolo delle lobby. Naturalmente questo non può regolamentare il malaffare, perché se c'è qualcuno che invece esce da queste regole, però non esce solo dal codice penale, questo terrei a dire, esce pure dalle regolamentazioni che il Parlamento si è dato. Naturalmente essendo un Parlamento sovranazionale, è un Parlamento che ha molte relazioni in qualsiasi settore con una dimensione che non è solo quella né nazionale né europea, è chiaro che c'è una continua interazione tra i parlamentari e il mondo esterno. Questo fa anche la ricchezza di questo Parlamento, quindi io credo che bisogna essere molto accorti nel punire le responsabilità e cercare di evitare molti ruoli che i parlamentari o ex parlamentari assumono nella loro vita professionale, ma nello stesso tempo salvaguardare alcune caratteristiche di questo Parlamento che lo fanno anche molto diverso da tanti altri. Detto questo, io ho subito iscritto dalla scorsa volta Roberto Musacchio, a cui do la parola proponendovi di raccogliere tre interventi e poi di far replicare, se vogliono naturalmente, i relatori. Per fare questo, quindi evitando le conclusioni finali, dobbiamo tenere tutti un certo ritmo nella discussione. Io mi fermo qui e do senz'altro la parola a Roberto, a cui segue Franco Russo. Prego Roberto. Sì, grazie. Naturalmente le relazioni sono state molto larghe, complesse e ciascuno dei temi che mi riferirebbe un approfondimento. Io scelgo di fare una questione di fondo dal mio punto di vista e cioè su qual è la natura soggettiva del processo dell'Unione Europea. Perché io sono abbastanza oramai convinto che dobbiamo smettere di dire che è un processo parziale, inconsapevole, limitato, che però potrebbe essere aggiustato, eccetera, eccetera, vittima di così via. Io penso che vada oramai letto per quello che è e cercato di analizzare per quello che è, nella sua naturalmente tendenza prevalente. Questo non significa, come si può dire, considerare l'evoluzione dei fatti come una logica deterministica per cui i processi si autodeterminano in modo come se fosse una soggettività imperante, capace di... Però la tesi che io ho è che l'Unione Europea non è un percorso ritardato, non è arretrata dal punto di vista della democrazia, ma è la costruzione, in particolare nell'ultimo trentennio, di una soggettività atitica del tutto diversa e di forma dalle altre esistenti, di gestione di una parte della globalizzazione capitalistica nella sua farita finanziaria e con una caratteristica fondamentale di ademocrazia. Non casuale. Cioè, io ritengo che il metodo funzionalistico avesse in sé, anche con elementi di volontà, il portato di costruire una struttura funzionale alle esigenze del capitalismo nella fase in cui le crisi, per citare Schumpeter o altri, divengono un elemento permanente di rigenerazione del capitalismo stesso al di fuori e oltre il tradizionale conflitto sociale che abbiamo conosciuto nel corso del novecento. Tesi che faccio con l'accetta, ma che credo che possa essere iscritta al dibattito. Cioè, io non ci credo più che siamo nella fase in cui arriveranno, eccetera, eccetera. Perso che gli elementi che vanno maturando, ad esempio un mix tra governance e statalismi, statualismi e non statalismi, un incrocio assolutamente oramai evidente anche nelle maggioranze reali del governo dell'Unione Europea, tra gli stati e le governance, nel rapporto che c'è tra le stesse figure che fanno parte di queste governance, quelle che venivano descritte da Bruno Amoroso, ma non solo, come le sliding doors che caratterizzano moltissimo del personale politico che sta su... Qualcuno deve chiudere, per favore, bisogna chiudere per cortesia gli audio, che caratterizzano... Anche Luciano Gallino ha scritto di queste questioni qui, e appunto una soggettività che affida agli stati il rimanente di controllo sociale e politico e in prima persona, invece, gestisce le relazioni con le strutture capitalistiche dominarie. Naturalmente ci sono le regole, tutte le cose che dice Pasqualina, e quindi noi dobbiamo non fare ragionamenti che creino alibi ad alcuni rispetto ai comportamenti. Ma non c'è dubbio che questa storia del passaggio di ruolo e di funzione è continua, permanente, che è la caratteristica che ha assunto la Commissione, in particolare quella di soggetto che tratta direttamente le multinazionali, che ha un ruolo che al posto della politica economica e della politica di programmazione ha direttamente l'interfaccia con le strutture del mercato, delle strutture finanziarie, e che l'Unione Europea è quella più restia a porre regole dal punto di vista del funzionamento del mercato globale. Se lo si è visto durante la fase della pandemia, il soggetto che si è più battuto contro l'idea di liberalizzazione dei brevetti è stato l'Unione Europea. Il soggetto che ormai si qualifica come acquirente di mercato e che ha iscritto al proprio interno, nelle proprie regole fondamentali, di più tutte le regole mercatorie che vengono dal PTO, eccetera, eccetera. E contemporaneamente però ha questa caratteristica di essere portato dal permanere degli Stati come elemento di garanzia della forza e del consenso che in altri punti di vista manca nella progettualità politica, nel compromesso sociale e che vengono del tutto derubricati, ha anche una subordinazione geopolitica e però qui anche dico la mia, io non ci credo che l'Unione Europea sia al rimorchio semplicemente di quello che hanno deciso gli Stati Uniti da Medi. Io penso che c'è una decisione soggettiva dell'Unione Europea di giocare un certo ruolo e rigiocarlo anche nell'attuale situazione di gioco. Lo ha fatto già nella crisi del 2009 in cui ha accettato di importare la crisi finanziaria degli Stati Uniti e ne ha fatto il volano del più gigantesco processo di ristrutturazione e di ampliamento dei poteri funzionalistici su tutti gli insieme di bilancio determinato dall'austerità e dai pacchetti approvati intorno al semestre europeo to PACS, PACS, eccetera, eccetera. Una cosa incredibile, c'è un soggetto che con l'1% del bilancio controlla oramai il 100% dei bilanci degli Stati lo sta facendo anche in questa fase. Cioè io penso che in questo momento non possiamo non renderci conto come il punto di volta della situazione anche del conflitto tra Nato e Ucraina il ruolo europeo sia volto a garantire un fatto enorme nella storia del secolo e quindi del nuovo secolo, del nuovo millennio è che è il riarmo tedesco. Noi abbiamo un'operazione gigantesca di riarmo tedesco con un rapporto peraltro direttamente con il mercato di produzione delle armi, eccetera, eccetera. Quindi non ci vedo naturalmente nessuna innocenza o subalternità naturalmente vedo tutti i contrasti e le contraddizioni gli interessi immediatamente sociali che possono essere colpiti, eccetera, eccetera ma che vengono assorbiti in quello che è l'elemento di fondo un patto tra le borghesia europee che garantisce quello che è stato chiamato da Gallino il rovesciamento della rotta di classe in termini permanenti scaricando sui soggetti più deboli i costi delle ristrutturazioni permanenti. La resilienza è la parola più usata e possiamo chiamarla ristrutturazione capitalistica permanente l'elemento capace di far avanzare il conflitto di classe rovesciata. Ecco, questo penso che possa valere appunto come lettura dal mio punto di vista a cavallo delle tre relazioni. Gli elementi strutturali che diceva Andrea gli elementi ciclici economici di cui ha parlato Screpanti e anche la gestione del PNRR di cui ha parlato Paola Boff. Il PNRR è una variante peraltro abbastanza dipendente della opzione strategica che è stata formulata dall'Unione Europea che è un'opzione molto simile a quella della Nato, molto simile a quella degli altri imperialismi che stanno dentro questa fase in cui c'è il convivere tra una struttura finanziaria imperiale complessiva e il contrasto tra i vari imperialismi. e quindi è animata da una volontà di suprematismo e di uso dell'innovazione in termini di forza, di forza da acquisire in termini preventivi in modo da determinare un'impossibilità per gli altri di avere un sopravvento. Naturalmente tutto questo fatto in nome di una impostazione che considera la propria natura superiore a quella degli altri. Da ultimo, la falsificazione, per usare un termine popperiano, di questo concetto soggettivo di suprematismo è data dall'interpretazione della storia che questo soggetto ha andato modificando nel corso degli anni in modo abbastanza rapido. Per chi ha fatto il parlamentare come me, Pasqualina, nel 2004, testi come quelli licenziati dal Parlamento europeo sulla Seconda Guerra Mondiale, prima, due anni fa, tre anni fa, o questo adesso sulla questione della Russia, e non sto neanche a dire che sono chiarissime le responsabilità di Putin perché non ci perdono neanche più tempo, ma quelli sono testi che rovesciano radicalmente la costruzione storica dell'Unione Europea, praticano istituzionalmente il revisionismo storico e alimentano la condizione attuale che vede appunto questo intreccio tra governance e nuova dimensione geopolitica in una maggioranza che è strutturalmente di destra sia per gli stati che la compongono che per le forze politiche che la compongono e per di più per le forme con cui si pratica il proprio ruolo dentro questa forma di governance. Questo significa che è tutto da buttare? No. Io e Pasqualina sicuramente siamo affezionati moltissimo al Parlamento europeo, ci feriscono moltissimo cose che succedono, il Parlamento europeo è un punto di riferimento, ma se non si rovescia il fondamento della costruzione, cioè il funzionalismo e non si fuoriesce da questa logica dando alla democrazia la sua valenza storica per come l'abbiamo conosciuta, francamente è difficile pezzo per pezzo cercare di porre un argine a quello che sta succedendo. In questo ragionamento c'è molto ragionamento con una tesi ma anche domande che naturalmente rivolgo a tutti e tre i nostri relatori. Grazie. È finito, grazie. Grazie, molto interessante. Franco Russo. Grazie Pasqualina. Intanto ringrazio i tre relatori e non solo per quello che hanno detto la scorsa settimana, ma anche per la scrittura che è seguita e che ci ha consentito di approfondire i temi che hanno trattato. Io mi inserisco abbastanza sulla scia che Roberto Musacchi adesso ha delineato, nel senso che anch'io credo che la chiave di interpretazione delle vicende dell'Unione Europea vada vista nel funzionalismo e che come il capitalismo anche l'Unione Europea nella sua parte istituzionale, cioè nella sua vicenda istituzionale, segue appunto una vicenda di crisi, superamento della crisi, di un'altra crisi, adesso non per fare appunto della demagogia, ma che caratterizza appunto la struttura economico-sociale e istituzionale del capitalismo. Ovviamente le vicende istituzionali hanno, come quello economico-sociale, dei condizionamenti storici che ne fanno anche delle contingenze e io, per dare inizio proprio a quello che volevo dire, partirei da un'affermazione fatta da Andrea Amato, quando ha detto, se non ricordo male, se cito bene, le istituzioni europee vengono costruite anche in maniera non coerente, perché per esempio per rispondere alla crisi del 2008-2009-2010 l'Unione Europea ha costruito istituzioni funzionalizzate all'austerity, oggi quelle stesse istituzioni non vengono cancellate, ma vengono, diciamo così, assorbite, funzionalizzate, invece la Napoli non è più di pura austerity, anzi durante il Covid è stato di ampio intervento, c'è dalla BCE che degli stati membri, e oggi il tutto viene rifunzionalizzata e delineare una governance nell'ambito appunto dei conflitti geopolitici che sono stati anche adesso richiamati da Roberto. Le mie considerazioni sono queste. Allora, la prima, lo diceva Roberto, quindi posso essere rapidissimo, anch'io credo che noi dobbiamo seguire con molta attenzione e non dare per scontato l'egemonismo statunitense sull'Unione Europea. È evidente a tutti naturalmente che in una fase di guerra, guerreggiata, il primato militare degli Stati Uniti si fanno sentire e dunque di conseguenza anche il primato economico e geopolitico, però io vorrei ricordare a me stesso, ma dico retoricamente, ma insomma a chi mi ascolta ai tre relatori, che per esempio ci sono due fattori di cui dobbiamo sempre tener conto nella valutazione appunto delle dinamiche e dei rapporti geopolitici fra l'Unione Europea e gli Stati Uniti. Per esempio io voglio ricordare che rispetto all'Inflation Recovery Act, il cosiddetto IRA per dirlo all'italiano, sia Macron che la Fond Ryan e soprattutto il Presidente, in questo caso Michel, sono andati abbastanza all'attacco e Macron ne ha fatto uno degli elementi fondamentali della sua visita a Washington dicendo a Biden che su questo atto di sostegno all'economia e soprattutto all'industria statunitense, l'Unione Europea chiede un uguale trattamento come quello del Messico e del Canada, con cui, ben sappiamo, gli Stati Uniti hanno invece dei legami molto più stretti. Vorrei ricordare anche che polemicamente il viaggio di Scholz in Cina è stato criticato sia dai liberali che dai verdi in Germania perché appunto questo testimonia di una tentativa di autonomia, di politica sia economica che, ripeto, strategica rispetto alla Cina, non gradita agli Stati Uniti che vedono nella Cina invece un concorrente strategico e neanche in accordo con tutti gli ambienti dell'Unione Europea ma ciò nonostante Scholz è andato in Cina, a Pechino e vorrei ricordare, ovviamente sto dicendo tutti dei segni ma purtroppo la storia si interpreta attraverso i segni cioè noi non facciamo parte del potere e quindi non facciamo parte delle discussioni non sappiamo delle discussioni che loro fanno ma l'altro segno che vorrei ricordare è la vendita di una parte del porto di Hamburgo con paesi amici, quindi nonostante diciamo queste tendenze la Germania ha svolto questa funzione quindi a me pare che il rapporto Unione Europea-USA debba essere seguito con molta attenzione non dar per scontato gli esiti né dar per scontato il risultato finale certo, ripeto, in tempo di guerra gli Stati Uniti hanno maggior potere la terza considerazione è questa non sarà facile ma questo già lo diceva Roberto ma io vorrei aggiungere degli altri elementi i 100 miliardi che la Germania ha deciso di investire nei prossimi anni negli armamenti si accompagnano agli altrettanti miliardi oltre ovviamente alle tensioni intercapitalistiche che per esempio l'Italia, il Giappone e la Gran Bretagna metteranno nel famoso stealth cioè nell'aereo invisibile che dovrebbe entrare in funzione nel 35 questo ovviamente li mette in concorrenza con la Francia e la Spagna però per dire che anche sulla politica di difesa va seguito con molta attenzione perché la politica di armamento sarà uno dei volani appunto della riorganizzazione produttiva nell'Unione Europea con tensioni intercapitalistiche ma questo fa parte del gioco e sappiamo come invece la Commissione von der Leyen abbia tentato in questi anni appunto di delineare un blocco di misure per quanto riguarda il campo da difesa sia per mettere insieme le spese per la difesa sia perché e quindi razionalizzandole al contempo sia per creare appunto un supporto militare molto forte alla Nato con cui nei trattati come ben sappiamo c'è un sancito appunto una relazione stabile e solida fra Unione Europea e Nato la quarta cosa che vorrei dire è questa ritornata appunto all'affermazione che faceva Andrea le istituzioni non coerenti ora Ernesto ci ha descritto molto bene la riforma della governance e io concordo con quello che soprattutto alla fine della sua relazione Ernesto ha detto cioè a dire una grande centralizzazione dei poteri decisionali nelle mani della Commissione e degli Stati membri perché il piano che sarà deciso appunto per rientrare nel debito pubblico e nel deficit nei parametri del debito pubblico e del deficit e per stabilire i piani diciamo di riforma a quattro a sette anni vengono decisi fra gli Stati membri la Commissione e poi il Consiglio questa tendenza alla centralizzazione del potere finanziario delle politiche di bilancio nelle mani della Commissione si accompagna alle decisioni prese per combattere la grande crisi la grande recessione dopo il 2008 in cui vennero parati varati come ben sappiamo il six pack il two pack l'articolo 81 revisionato e tutta l'altra diciamo misure che sono state decise queste misure puntavano appunto soprattutto col semestre europeo a centralizzare i poteri decisionali sulle leggi di bilancio nelle mani della Commissione questa tendenza anche se cambia diciamo così la postura rispetto agli strumenti contingenti di politica economica rimane ribadita questo Ernesto l'ha spiegato molto bene viene ribadita in queste in questa riforma di di governance in cui c'è la Commissione e lo Stato decidono fra di loro come articolare le politiche pubbliche e in questo bisogna sottolineare quindi che ancora una volta sia il Parlamento europeo sia i Parlamenti nazionali quindi le diciamo le sedi della rappresentanza politica vengono completamente cancellate dalla politica economica che peraltro ben sappiamo su cui peraltro ben sappiamo il Parlamento europeo ha pochi poteri in questo campo una riflessione che vorrei fare diciamo così anzi un invito alla riflessione che vorrei fare Ernesto è questa Ernesto ha detto io vedo nel passaggio alla spesa alla spesa pubblica cioè di prendere come parametro la spesa pubblica un fatto positivo perché se ricordo male il suo ragionamento Ernesto dice nel momento in cui si parla di spese quindi evidentemente come dire implicitamente si dà uno spazio agli Stati per poter intervenire e io su questo Ernesto invece ho molta perplessità perché nel momento in cui si interviene sulle spese quindi e non sulle entrate io penso che ci sia una maggiore incidenza di potere da parte della Commissione e del Consiglio dell'Unione Europea perché le spese ovviamente significano dove, come, quando, per quali strati sociali lo Stato vuole intervenire e quindi un controllo molto forte invece sulle politiche pubbliche quindi io vedo può essere che abbia capito male Ernesto e che siamo invece d'accordo che invece il controllo sulle spese è un grosso strumento di condizionamento delle politiche pubbliche dei singoli Stati ora io non voglio rubarvi altro tempo ma ho qui con me una documentazione presa da leggendo 24 ore in cui alcuni personaggi particolarmente significativi per esempio Buti che è il direttore generale del Dipartimento Economia quello gestito da Gentiloni insieme a Messoria Bassanini e ad altri affermano che certo si paga un prezzo con questa riforma della governance perché non c'è una fiscalità centralizzata una potenza fiscale molto forte perché il bilancio dell'Unione Europea non viene potenziato non c'è una diciamo così un'assunzione come fatto strategico dell'emissione dei bond da parte dell'Unione Europea anche se ormai i precedenti cioè il SURE e il Next Generation ormai testimoniano della possibilità di emissioni di debito pubblico da parte della Commissione cioè dell'Unione Europea però il punto di fondo su cui vorrei richiamare l'attenzione e qui invece ve la voglio citare a conclusione che la spinta verso i beni pubblici europei che per noi dovrebbe significare scuola assistenza sanità reddito di cittadinanza asili nido difesa del territorio transizione verde dell'economia i beni pubblici di cui parlano loro ecco ve lo cito e chiudo per vedere appunto i termini proprio classisti con cui si muovono e vengono indicati riassuntivamente da Franco Bassanini e Claudio De Vincenti membri del PD che dicono questi sono i beni pubblici di cui bisogna occuparsi cioè quelli che chiamiamo i beni pubblici europei cito sicurezza e difesa autonomia strategica dell'Europa transizione ecologica e digitale ovviamente guidata dalle imprese mercato unico gestione dei migranti e dei rimpatri sottolineo e domani la ricostruzione dell'Ucraina i beni pubblici per loro quindi sono quelli che offrono un nuovo mercato alle imprese non quindi una domanda da parte della società per soddisfare i suoi bisogni ma all'opposto ecco a me pare che questi sono alcuni temi su cui vi inviterei a riflettere perché ovviamente avendoli sostenuti e detti ritengo che siano particolarmente significativi ovviamente io credo che il nostro lavoro debba continuare appunto nella ricerca nell'analisi delle politiche dell'Unione Europea soprattutto in questa fase in cui si vanno redileneando i grandi rapporti appunto a livello geopolitica e chiudo davvero ricordandovi che io trovo abbastanza interessante non so se voi continuate a condividerlo il fatto che noi non dobbiamo più parlare di geopolitica ma di geoeconomia perché ormai gli stati membri dell'Unione Europea e le potenze mondiali sono appunto perseguono politica non più di potenza finalizzate al rafforzamento degli stati ma politica di potenza finalizzate alla competitività dei rispettivi sistemi economici grazie per l'attenzione grazie Franco io per il momento non ho altri iscritti ah sì Ernesto Ernesto che può appunto reagire ai primi due interventi voglio reagire subito tanto per chiarire una questione sollevata da Franco su sull'uso della spesa pubblica piuttosto che del deficit come variabile strumentale di controllo delle politiche fiscali Franco tu hai ragione quando dici che questa riforma aumenta i poteri della commissione i poteri centrali nei confronti della Stata perché se la commissione è in grado di determinare la spesa pubblica ha maggior potere nei confronti dei governi di quanto ne avrebbe potesse intervenire totale sui deficit questo è vero la ragione per cui tuttavia questa riforma è considerata positiva anche dai chinesiani anzi proprio dai chinesiani è che il controllo attraverso il deficit pubblico come era prima aveva effetti pro ciclici cioè tendeva ad aggravare le crisi quando c'erano crisi mentre l'esercice del controllo attraverso la spesa pubblica ha l'effetto di uno stabilizzatore automatico vorrei spiegare bene questa cosa perché non è così ovvia se si usa come parametro il deficit pubblico quando un paese va al di suo per il 3% ora il parametro del 3% di deficit ad esempio perché c'è una recessione la commissione interviene ponendo delle condizioni che costringono è accaduto così in passato che costringono i governi a prendere provvedimenti restrittivi cioè per restringere la spesa quindi accade questo che c'è una recessione di conseguenza si riducono le entrate fiscali del governo di conseguenza aumenta il deficit la commissione costringe il governo a ridurre la spesa pubblica e la recessione si approfondisce quindi usare il deficit pubblico come strumento di controllo ha questo effetto precipico di aggravare la crisi quando c'è invece l'uso della spesa pubblica è un effetto di stabilizzatore perché quando l'economia va in crisi come prendiamo lo stesso caso di prima l'economia va in crisi si riducono le entrate fiscali aumenta il deficit tuttavia quello che conta è la spesa la spesa che è stata programmata e la commissione controlla la spesa costringe il governo a tenere sotto controllo la spesa e quindi non c'è bisogno di ridurre la spesa per riportare il deficit al di sotto del parametro del 3% e quindi non c'è questo effetto di aggravamento della crisi questa cosa è positiva ed è uno dei consigli che hanno stati dati al questa cosa è possibile perché appunto non c'è più l'obbligo di mantenere il rapporto deficit sotto il 3% ogni anno l'importante è che sia così nel medio termine diciamo nell'arco dei 4 anni diciamo che questa secondo me è fondamentalmente una riforma positiva dal punto di vista macroeconomico però è vero che dal punto di vista politico è negativa nel senso che aumenta l'accentramento del potere nelle mani della commissione quello che io ho detto l'altra volta che è stato richiamato il noccio di questo tipo di riforma è che mentre non viene aumentato il bilancio in misura sostanziale il bilancio della commissione un grosso bilancio federale né stiamo istituiti degli euro bond permanenti tuttavia si danno alla commissione dei strumenti tali per cui la politica fiscale che non può fare a livello federale la fa a livello statale cioè in altri termini la commissione sempre di più è in grado di intervenire nelle politiche fiscali dei singoli stati la commissione adesso d'ora in poi farà le politiche fiscali degli stati e per di più c'è la clausola che dichiarata esplicitamente in questa proposta che se lo stato se uno stato fa un piano di medio termine che non è compatibile con quello già fatto dalla commissione perché parte dalla commissione la proposta di piano vale quello della commissione non quello dello stato quindi non c'è dubbio che c'è questo forte aumento dei poteri della commissione e questo mi riporta adesso vorrei un po' generalizzare e ricollegarmi anche al discorso che faceva Roberto Musacchio ma che è stato accennato anche da Franco cioè ormai c'è questa idea che l'integrazione europea progredisce attraverso le crisi ogni volta che c'è una crisi si fa una riforma e si va avanti questo sembra che sia accaduto però bisogna capire che cosa vuol dire si fa una riforma e si va avanti perché non è un progredire verso un sistema sempre più democratico al contrario è un progredire verso un sistema sempre più funzionalista e sempre più tecnocratica e quest'ultima riforma lo dimossa quindi questo lo dico a tutti coloro che pensano che l'Unione Europea possa essere riformata che sia riformabile ma a me sembra evidente non è assolutamente riformabile perché si sta muovendo in una direzione in cui la democrazia conta sempre di meno il che è funzionale agli interessi del grande capitale globale multinazionale e anche europeo vorrei far notare anche una cosa che i paesi di maggior successo nell'arena globale le grandi imprese di maggior successo sono quelle dei paesi in cui il governo è di fatto tecnocratico con metodi diversi ma di fatto è così e cito la Cina e gli Stati Uniti gli Stati Uniti hanno un esecutivo che ha una concentrazione di poteri enormi ed è assolutamente collegato con l'apparato militare industriale la Cina ha il partito comunista cinese che governa chiaramente senza controlli democratici e questi due sistemi politici funzionano abbastanza bene proprio perché eliminano quelle difficoltà quegli ostacoli quegli attriti che la democrazia può opporre alle riforme funzionali allo sviluppo capitalistico un'ultima cosa vorrei dire anche quando si parla di Europa e degli Stati è vero quello che dice Roberto Musato che l'Europa fa la grande politica funzionale all'istituzione e alla globalizzazione e gli Stati hanno la funzione del controllo sociale però non tutti gli Stati sono uguali perché c'è anche una struttura di potere interna all'Unione Europea che conta molto io l'altra volta ne ho parlato non nell'ultimo webinar non quello precedente ne ho parlato facendo riferimento ad una struttura che ho chiamato Germaneu cioè in realtà in Europa c'è una struttura di potere in cui la Germania sta al centro e intorno alla Germania ci sono due cerchi concentrici di paesi di economie che sono dipendenti dalla Germania il che dà senso al viaggio di Scholz in Cina e alla politica che la Germania sta facendo soprattutto nell'ottica del riarmo perché se l'Europa vuole rendersi effettivamente indipendente dagli Stati Uniti deve muoversi in una direzione in cui vengono rafforzati i poteri dello Stato più potente la Germania e deve essere dato a questo Stato anche un potere una forza militare che finora non ha avuto quindi si capisce questa idea diciamo questa proposta del riarmo tedesco non soltanto è funzionale all'industria tedesca eccetera eccetera ma è funzionale anche alla costruzione di una potenza imperiale europea che è potenza imperiale germaneuropea cioè europea ma con questa Germania che sta al centro di tutta la struttura in questa ottica si possono leggere anche tutti i sistemi di riforma che sono stati proposti a livello industriale e sociale con 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 generazione e tutta la questione della transizione ecologica transizione digitale e adesso anche con il sistema di power europe che mira a rendere l'Europa indipendente dalla Russia per i rifornimenti energetici tutte queste queste riforme sono appunto funzionali da una parte alla ristrutturazione del capitale europeo nel senso di creare una struttura continentale con quel con quel apparello economico generativo che fa capo alla Germania e dall'altra funzionali alla costruzione di una potenza europea che possa competere da pari a pari con gli Stati Uniti e la Cina ok grazie grazie Ernesto come avete visto tutti c'è una reazione di Franco ve lo potete reggere che il quale non interviene ma appunto ci scrive alcune note che vi sottopongo anche a voi Andrea vuoi dire qualcosa tu? va bene allora io in generale potrei anche stare zitto perché sono d'accordo con tutto quello che ha detto Roberto tutto quello che ha detto Franco però insomma ci sono alcune cose che forse meritano di essere puntualizzate soprattutto mi riferisco all'intervento di Roberto che è quello che mi offre maggiormente il destro per approfondire di più e andare un po' più avanti intanto che l'Europa sia un'entità ademocratica con l'alfa privativa significa che non c'è democrazia insomma quindi se per 50 anni l'abbiamo chiamato deficit democratico voglio dire che non cambia non cambia niente nel giudizio l'importante è che noi non abbiamo non abbandoniamo il discorso sulla democrazia sulla democraticità delle istituzioni europee perché è quello forse che maggiormente può essere capito se uno vuole portare avanti come dire delle azioni delle lotte che riescano a cambiare l'Europa perché se no continuiamo a contarci tra di noi sono d'accordo con con la sottolineatura che faceva Roberto sul funzionalismo probabilmente forse anche nel mio scritto c'è la necessità chiudete il microfono chiudete il microfono dicevo c'è la necessità di approfondire meglio il rapporto che c'è e che c'è stato tra funzionalismo e democrazia così come sono d'accordo sulla constatazione diciamo più generale che non è possibile non è prevedibile non è non ci si può lavorare su una ipotesi di trasformazione graduale della Unione Europea c'è qualcuno che c'è il microfono aperto per favore e chi è è Giancarlo Giancarlo Scotoni ma anche Pasqualina ma io non ho rumori qua sono sola lo tengo aperto per moderare ho capito ma non ho disturbi vabbè dicevo che sono d'accordo su questa diciamo idea che è molto importante ragazzi perché significa ha una serie di poi conseguenze pratiche politiche se uno vuole proseguire il discorso e l'azione sull'Europa cioè questa Europa così come non è diciamo trasformabile progressivamente con azioni di miglioramento non è una una questione nuova c'è stata su questo per esempio tutta la la polemica la dialettica tra Habermas che aveva che aveva ah tuttora secondo me una visione ottimistica no cioè quanto più noi riusciamo da dare poteri al Parlamento europeo quanto più le le voglio dire si fanno passi avanti sulla democrazia all'interno eccetera tanto più poi riusciremo ad arrivare ad un'Europa diversa eccetera eccetera Jacques Derrida invece dice no ci vuole come dire una una rottura un cambiamento rispetto a questa cosa e qui è il punto no qual è questo cambiamento tutto il senso e lo sforzo della mia relazione visto anche l'uditorio al quale mi mi rivolgevo e mi rivolgo è quello di cominciare a mettere dei punti fermi su come si fa a fuoriuscire dal funzionalismo come si fa a fuoriuscire anche da questa idea che io ho chiamato migliorista cioè di trasformazione progressiva dell'Europa così com'è e allora il primo punto è quello che siamo d'accordo che per noi democratici per noi che abbiamo una certa diciamo che facciamo una certa analisi come quella che è stata fatta è stata in qualche modo richiamata da Franco e da Roberto eccetera l'ipotesi non può essere quella dell'exit quella dell'uscita dall'euro quella dell'uscita dall'unione europea questo io penso che dovremmo dirlo ai 420 e allora il problema se non è l'exit se non è la trasformazione graduale se non ci vuole se ci vuole invece un momento di come dire di rottura di cambiamento totale di quello che è oggi o è sempre stata l'unione europea e beh allora dobbiamo fare i conti i nostri conti con l'idea di federalismo non c'è niente da fare io vedo ancora troppo pudore nella sinistra rispetto allora ci sono due cose diciamo contrastanti da una parte c'è il federalismo così decantato il federalismo come mitologia che agitano tutti 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 dal diciamo persino nel PPS si dice ah ma sì ma no il federalismo sarebbe una bella cosa eccetera cioè tutti vogliamo il federalismo però 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 ecco il problema non è quello e penso che forse anche sul piano proprio della comunicazione aver identificato una ipotesi e un futuro federalista con gli Stati Uniti d'Europa abbia reso ancora più lontano l'idea la possibilità del del federalismo quindi diciamo se riusciamo a mettere un primo punto su quel primo paletto che dicevo io cioè quello anzi sono due paletti ripeto uno è l'uscita vuole dire la soluzione non è l'exit no? l'altro non è la trasformazione graduale di quello che c'è dopodiché il problema rimane aperto e dobbiamo ragionarci sopra ecco ho finito bisogna chiamare Giancarlo e dirgli chiudere il microfono allora a questo punto io non ho nessuno iscritto abbiamo avuto i due dei tre relatori presenti che hanno replicato e Paola aveva detto che ci avrebbe raggiunto ma non mi pare che sia ancora arrivata è arrivata è arrivata allora se vuole se vuole intervenire anche lei non so a che punto è arrivata della discussione o altrimenti ditemi voi cosa volete fare Paola ci sei? Sì ci sono grazie Pasquale Vuoi dire qualcosa Paola hai sentito? Beh poco magari sentire qualche altra cosa e poi dire due cose molto semplici benissimo allora volevo dire io un paio di cose ma sono questioni eh io credo che sulla questione tedesca noi dovremmo capire di più capire di più perché non so se voi avete visto questa ultima saggio di Scholz dove lui annuncia appunto il riarmo il senso del riarmo dice si propone come il soggetto della difesa europea annuncia che la Germania avrà il terzo esercito più grande al mondo e tira tutte le conseguenze della dei rapporti con la Russia perché dice Putin con l'intervento ha rotto il patto quindi lui praticamente fa una dichiarazione politica impegnativa che da qui in avanti tutto il ruolo della che la Germania ha solto nella relazione con l'est europeo eccetera è finito e si propone come interlocutore affidabile degli Stati Uniti quindi questa cosa cambia tutto e noi dovremmo capirlo meglio naturalmente in questo c'è un orizzonte diverso dello sviluppo economico della Germania che si rivolge appunto al al riarmo e quindi con tutto questo comporta con l'industria ricerca chi più ne ha chi ne metta ridefinisce questa relazione con la Cina perché il suo viaggio in Cina ma in questo saggio lui lo spiega cioè che lui non rinuncia a questa relazione seppure sarà più condizionata che in passato da elementi quali la critica sul regime eccetera eccetera però ne fa un elemento funzionale all'economia tedesca quindi non 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 rinuncia diciamo a questa relazione tutto questo naturalmente apre ad esempio un interrogativo che succede nell'asse franco tedesco cioè la Francia fino a oggi era lei insomma quella che si proponeva come quella più interessata a costruire una politica di difesa europea essendo lei il paese che più ha le caratteristiche poterlo fare anche perché possiede l'arma nucleare e anche il seggio alle Nazioni Unite questo riarmo tedesco secondo me presuppone anche una una sviluppo verso il nucleare immagino e quindi secondo me ci sono molte cose che si stanno muovendo in questo momento che insomma sono di una grandezza inedita rispetto agli equilibri all'Europa che noi abbiamo con cui abbiamo avuto consuetudine dal dopoguerra ad oggi dopodiché c'è anche insieme a tutto quello che avete detto il centralismo funzionale allo sviluppo capitalistico forse l'Europa ancora deve definire come e se ci partecipa in quanto Europa o se ci partecipa in quanto singoli paesi che appunto si rideterminano la loro vocazione però insieme poi c'è un discorso politico e culturale a me fa soffrire moltissimo quello che diceva Roberto Musacchio che abbiamo visto in alcune relazioni o risoluzioni del Parlamento europeo l'eco della rilettura della storia dell'uso politico della storia che ha fatto sì che in molti paesi dell'est la destra abbia vinto e ha vinto anche perché si è riappropriata di un uso della storia e dandone un'interpretazione diciamo del tutto del tutto come dire funzionale ai propri obiettivi e queste ecole abbiamo visto persino nelle risoluzioni del Parlamento europeo io non so se voi avete letto questo ultimo libro di Guido Krains che vi consiglio perché lui proprio su questo fa un grande approfondimento cioè su come l'uso la storia l'uso della storia dalla caduta del muro ad oggi abbia determinato e sia stato un elemento consustanziale all'affermazione delle destre questo però questo processo è durato almeno un trentennio quindi bisognerebbe cioè almeno averlo approfondirlo e conoscerlo perché dall'altra parte non c'è un pensiero politico capace di fronteggiare tutto questo non c'è se non quello del mercato della riorganizzazione capitalistica ma come dire le forze progressiste hanno perso una narrazione che possa arrivare dopodiché quello che dice Andrea a me pare interessante cioè andare lanciarsi un po' verso un'ipotesi diversa dal riproporre il federalismo così come è stato come dire imbrigliato e proposto fino a oggi ma io vedo solo una strada ragazzi che è la strada del conflitto cioè se la questione democratica non si lega alle lotte sociali e a tutti i tipi di lotte per l'ambiente eccetera eccetera se non si apre un conflitto a livello sovranazionale finalmente io credo che non si rompa non riusciamo a rompere l'ineluttabilità di un disegno che ogni giorno vediamo che acquista terreno e determina l'essenza irreversibile della costruzione europea mi fermo Paola puoi dire qualcosa a questo punto grazie purtroppo mi scuso ma non sono riuscita a seguire la discussione che dall'inizio stavo lavorando e si sta parlando mi sembra prevalentemente appunto della della questione seduzionale insomma della anzi della natura stessa probabilmente dell'Europa dell'Unione Europea di quella che è di quella che potrebbe essere che non è di quella che ci piacerebbe di quella che potrebbe diventare io mi limito a la parte diciamo della mia partecipazione alla discussione che si riferiva alle politiche più e altro e sostanzialmente alla io ho fatto una comunicazione che si riferisce alla semestre europeo e quindi al coordinamento della politica economica della politica dell'occupazione che fa ogni anno appunto la commissione la commissione ha fatto un'analisi della situazione una serie di documenti ed ha proposto ha sottoposto al consiglio delle raccomandazioni che il consiglio dovrebbe assumere ho detto l'altra volta che avrebbe dovuto assumere queste raccomandazioni nella prossima seduta di dicembre in realtà non è così ma lo farà nella seduta di marzo prossimo l'unica cosa che vorrei dire è che come ho detto l'altra volta e come si può leggere nella comunicazione che è stata pubblicata la commissione fa un invito molto pressante a tutti gli stati sull'intraprendere politiche che come direbbe Ernesto contro cicliche si dice così anticicliche e cioè politiche che possano contrastare la perdita del potere di acquisto dei salari per esempio di fronte all'inflazione di fronte all'aumento dei costi dell'energia e quindi da un lato propone di cioè raccomanda di predisporre articolare queste politiche sia sul campo della politica economica del supporto alle famiglie del supporto alle piccole e medie imprese in particolare non in maniera indifferenziata ma come è successo finora rileva la commissione ma in facendole indirizzandole alle esigenze delle famiglie e delle imprese che sono più colpite da questo aumento dei costi sono più colpite più in generale dalla dalle transizioni dalla transizione digitale della transizione energetica ed ecologica fin da da quando l'Unione Europea ha promosso il Green Deal e quindi poi il pacchetto Fit for Fifty Five ha proposto anche la definizione di un fondo per Climate Social Fund cioè un fondo che possa compensare i problemi che sono causati dal cambiamento climatico e quindi dalle politiche messe in atto se vengono se in atto per contrastare il cambiamento climatico la commissione propone la comanda dei stati di intraprendere politiche mirate a questi sedimenti della popolazione e delle imprese e nella proposta relativa ai piani per l'occupazione rimarca la necessità di adottare quanto prima la legislazione sul salario minimo e di supportare con redditi adeguati le classi diciamo le classi più svantaggiate che non usa questo termine ovviamente per ridurre le disuguaglianze ora io mi veniva in mente semplicemente che in questo senso l'Unione Europea agisce un po' come fattore stabilizzatore rispetto all'azione degli stati mi riferisco ovviamente alla situazione dell'Italia in cui l'attuale governo è esattamente contrario all'introduzione di un salario minimo e vuole ridurre vuole eliminare probabilmente il reddito di cittadinanza e allora le raccomandazioni dell'Unione Europea in questo caso agiscono un po' come argine insomma a questo a queste politiche e quindi perciò dicevo si 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 mostra un po' come come soggetto stabilizzatore insomma perché contribuisce a riequilibrare delle delle politiche dei comportamenti da parte dei governi degli stati che che sono divergenti diciamo così dagli obiettivi che dovrebbero essere gli obiettivi comuni dell'Unione volevo dire solo questo grazie Paola allora mi dicono che ci ha raggiunto Francesca Ratti Francesca Ratti è una compagna che vive a Bruxelles è stata una funzionaria importante del Parlamento Europeo vice presidente vice segretaria generale del Parlamento ha seguito per noi no per lei ma anche per noi il dibattito che si è tenuto adesso alle 17 nella plenaria del Parlamento sull'affare dello scandalo delle tangenti e quindi se siete d'accordo e se Francesca c'è darei la parola a lei così abbiamo subito una valutazione della discussione che c'è stata Francesca ci sei? Sì ciao bella ciao Pasqualina buonasera a tutti ciao amica mi dispiace non aver seguito il dibattito prima ma appunto seguivo la plenaria a Strasburgo che dire è avvilente tutto non è tanto sorprendente visto il degrado che accompagna le istituzioni ormai da parecchio tempo la presidente Mezzola è stata molto dura e naturalmente ha anche confermato che l'autorità giudiziaria è dentro al Parlamento cosa che su un piano formale mi meraviglia perché dovrebbero avere tutta una serie di accordi e permessi che non credo siano stati dati comunque naturalmente il segno è quello di dire collaboriamo e mettiamo tutto a disposizione tu conosci bene tutte le persone implicate Pasqualina anche Roberto credo esatto l'ufficio sì ciao Roberto l'ufficio di Tarabella è comunque sigillato come quello di Maria Arena il gruppo ha cacciato e sospesi tutti l'intervento della presidente del gruppo socialista era molto imbarazzato l'unica cosa che ha annunciato è che il gruppo si presenta come parte lesa nel processo questa è stata l'ultima notizia insomma che hanno dato vogliono creare il comitato etico a livello dell'Unione Europea quindi in accordo con Commissione e Consiglio e daranno mandato alla Commissione di stabilirne il regolamento vogliono rivedere il regolamento del Parlamento per garantire più trasparenza e modificare tutti gli articoli che riguardano l'attività dei lobbying all'interno degli edifici con un registro di dichiarazioni chi incontra e chi insomma dopo aver passato 38 anni in quella casa vi posso dire che è abbastanza inutile ma sono lanciati su questo e naturalmente sull'idea di creare una commissione di inchiesta del Parlamento interna però aspettando prima i risultati dell'inchiesta giudiziaria per ora sono confermati tutti gli arresti come sapete si tratta di questo che io poi non conoscevo questa NGO che collaborava con quella di Pierantonio Panzeri poi lui è in galera a Bruxelles insieme alla vicepresidente che sarà dimessa dal suo ruolo di vicepresidente da un voto del Parlamento della plenaria domani c'è una riunione straordinaria della conferenza dei presidenti che dovrebbe lanciare questa queste riforme del regolamento interno e domani pomeriggio ci sarà un vasto dibattito perché oggi erano solo le dichiarazioni dei capigruppo sul tema non chiuso da una risoluzione perché vogliono aspettare a gennaio vedere cosa l'autorità giudiziaria comunicherà di più preciso quindi c'è un misto di volontarismo però voglio dire sono anche abbastanza desampare nel senso che la botta è dura e la botta è dura per tutti avete visto non so se avete notato avete modo di vedere i twitter di Orban il quale naturalmente prende in giro il Parlamento dicendo scusate a noi guardate che cosa vi tenete in casa e quindi diciamo che la situazione è molto pesante molto dura in questo momento non era proprio diciamo auspicabile non è auspicabile mai però voglio dire in questo momento ancora peggio mette a nudo perché poi tutto si collega diciamo anche questa ormai insufficienza delle istituzioni dei loro regolamenti dei loro poteri rispetto a una società che cambia in maniera vertiginosa e che in cui non fa seguito nulla diciamoci la verità io sono ho letto la relazione di Andrea sono d'accordo su tutto sono d'accordo sul fatto che anche il federalismo bisogna adattarlo al ventunesimo secolo ma che così non si può andare avanti cioè non si va da nessuna parte è una distruzione lenta di un intergovernalismo che sta massacrando un po' tutto e guardate che la prima istituzione che si è al 100% rinazionalizzata è il Parlamento doveva essere quella che resisteva di più e in effetti è l'elemento fragile della catena istituzionale dove prevalendo individualismi opportunismi ciascun deputato è più legato alle sue beghe nazionali e quindi alle possibilità poi di essere rialetto che ha un interesse comune europeo quindi il momento brutto qual è la strada una grossa mobilizzazione civile abbiamo le elezioni fra nel maggio del 2024 quindi un anno e mezzo però la gente ormai le istituzioni non ci crede più io dirigo un'associazione civica che ci occupa moltissimo perché anche i ragazzi che erano in fondo quelli più la fascia diciamo dai 20 ai 30 35 i più consapevoli diciamo della necessità dell'Europa per tutte le ragioni che voi sapete oggi sono completamente disamorati e tendono più a non votare in generale che a cercare di cambiare le cose in un altro modo quindi così io sono abbastanza abilita devo dire per me il crollo di una vita spesa per l'Europa ed è abbastanza difficile con queste classi dirigenti con questa classe politica con questi deputati europei che brillano per ignoranza e incompetenza è molto difficile veramente molto difficile mi spiace non avere parole di speranza anche se la spessa è l'ultima idea ma fa fatica a riapparire all'orizzonte grazie grazie Francesca qualcuno vuole commentare interloquire con Francesca ma io me lo me lo riscritto non te l'avevo visto scusami ma è meglio così nel senso che è anche bisogno di fare una discussione tra di noi non solo scambiare delle relazioni insomma ecco volevo prima rispondere a Andrea a te e anche altri che avevano detto allora qual è la terza via adesso riparto da questa cosa di Francesca insomma chi ha a cuore quell'istituzione come ce l'abbiamo io e Pasqualina naturalmente siamo molto colpiti insomma io penso che lo dicevo prima tu non mai senti io sei arrivato a top che c'è un problema che in questo momento la politica europea trainata dal funzionalismo è una politica fatta sostanzialmente di relazioni economiche e di relazioni geopolitiche ha pochissimo di sociale ma anche pochissimo di politica per giunta questo metodo funzionalista sta degenerando tra le governance i nazionalismi dicevo prima e anche le sliding doors cioè questa cosa dei cambi di ruolo di funzione eccetera eccetera e quindi siccome poi la governance il capitalismo globale è quella roba là che sta tra i grandi consigli di amministrazione le banche la finanza e gli stati finisci che giri da una parte all'altra qualcuno sembra rispettare le regole qualcuno invece non rispetta neanche le regole e questo è il tema drammatico che ci abbiamo cioè qual è lo spazio della politica in un sistema disegnato in questa maniera noi dobbiamo riappropriarci di uno spazio di ruolo della politica e io però vedo che questa cosa si accompagna anche a una decadenza del dibattito politico generale del Parlamento europeo io devo dire la verità le discussioni sulla guerra le ho trovate come si può dire mi hanno lasciato bastito urlate guerresche senza capacità di raziocinio cioè che era una delle caratteristiche europee quelle di cercare di ragionare su che cosa fare e più urlate più guerresche e meno efficaci e quindi quando perdi qualsiasi caratteristica di efficacia cosa rimane nell'attività parlamentare io ho sentito il discorso di Ursula von der Leyen ho scritto di questo sullo Stato dell'Unione francamente ero così se mi ricordo abbiamo parlato prima della Germania adesso io non darei per chiuso alla vicenda tedesca cioè io ricordo gli interventi di Merkel senza adesso fare la nostalgia di una che poi sostanzialmente ha gestito l'esistente ma non c'è paracone c'è un discorso sullo Stato dell'Unione che cita la regina Elisabetta e se scorda Gorbaccio che era morto una settimana prima ora poi nella storia lunga dell'Europa diciamo da Napoleone in poi e passando per due guerre mondiali fatte dai tedeschi alla fine questa storia di considerare l'Europa come cosa che nasce nella guerra contro la Russia non ha portato mai particolarmente successo e il fatto che vado da Napoleone alle due guerre mondiali lo dico come elemento trasversale naturalmente rispetto agli elementi valoriali che ho rispetto a quelle fasi storiche io vedo che appunto nella stessa Germania ho letto anche una cosa di La Fontaine su cui molte cose non condivido ma su questa volta condividevo oltre appunto a queste cose che sono uscite di Merkel riportate da Der Spiegel insomma non mi hanno più dato re allora se in una fase transitoria il riarmo tedesco traina eccetera eccetera in prospettiva io penso che la storia insegna che peraltro il periodo migliore dell'Europa è stato quello in cui grazie anche ai grandi elementi rivoluzionali del novecento tu hai costruito un modello sociale che assomiglia molto a quello che viene dalla storia del movimento operaio noi a forza noi continuiamo a parlare degli Stati Uniti d'Europa guardando un modello degli Stati Uniti che è lontano non è quello nostro cioè la cosa sempre del tutto sbagliata dei radicali insomma ma neanche la Gran Bretagna è fatta in quella maniera eppure poi tra l'altro vediamo come stanno messi pure loro ma il nostro modello era quello del partito di massa delle associazioni degli organismi sociali di massa eccetera eccetera delle istituzioni parlamentari e così via distaccarsi da questo modello è stato un guaio e appunto non aver letto l'ottantanove come bisogno di un avanzamento e invece averlo gestito semplicemente come una vittoria un allargamento della propria sfera si trasforma nell'esatto contrario di quello di cui ci sarebbe stato bisogno però vengo alla cosa di Andrea rapidamente questa terza via adesso è diventato più complicato perché noi abbiamo processi che sono andati avanti che sono un disastro cioè il subappalto dei partiti dei gruppi parlamentari al prevalente dell'est è tutto sbagliato consegno una realtà io che sono stato per l'allargamento rimango per l'allargamento perché mi ha colpito il fatto che si è sospeso il ragionamento con la Turchia nel momento in cui si è deciso una svolta filoatlantica e si è lasciata la Turchia nelle mani della Nato a gestire un pezzo di Casini da un'altra parte è chiaro che la situazione geopolitica è quella che rende più difficile allora dice Pasqualina ripartiamo dalla questione sociale io ripartiamo una grande missione che è la questione di come si smette questa guerra e di come intorno alla fine di questa guerra si rimette mano a un ordine democratico globale noi non ci possiamo permettere una guerra mondiale a pezzi permanente e non possiamo permettere che sia solo il Papa a dirlo bisogna rimettere mano a questa questione qua tanto oramai è evidente che all'ordine del giorno c'è l'assetto dell'ONU delle Nazioni Unite eccetera eccetera io penso che l'Europa dovrebbe rispondere di questo e avessi sentito un intervento anzi ho sentito uno di un'irlandesa del mio gruppo che parlava di questa roba un disastro gli interventi in aula del Parlamento Europeo sembravano gli interventi di un Stato maggiore militare non di un Parlamento di gente che ragionava e politica e quindi adesso ci metti dietro il fatto che appunto succedono questioni come quella di adesso e viene fuori che insomma come si può dire le influenze non è che arrivano solo da una parte le influenze arrivano da tutte le parti e corrispondono alla debolezza del tuo pensiero politico e al fatto che la tua funzione è sussunta nell'essere l'orpello di un funzionalismo che c'ha altre idee il federalismo come lo fai in questo momento cioè come fai un salto democratico una rottura democratica in questo quadro io penso appunto a partire da pace e questione sociale e e messa in campo di una proposta di neoparlamentarizzazione radicale sapendo che dall'altra parte la proposta che andrà avanti sarà quella delle destre interstatalismo e presidenzialismo cioè eleggere a suffraggio universale il presidente dell'Europa questo sarà cioè la proposta del vecchio gruppo dell'Europa delle Nazioni la proposta che Meloni porterà avanti sia in Italia che in Europa che però anche la cosiddetta sinistra del Parlamento ha approvato Roberto eh appunto eh io io sto qua compreso anche la fondazione comunista questo quale quale proposta dell'elezione diretta dell'elezione del presidente della commissione quando l'abbiamo approvata non non ho memoria di quale approvazione del genere no neanche io non ho nessuna memoria di questo sarebbe una cosa piuttosto grave Franco siccome sei intervenuto dimmi quando è scomparso Franco allora guardate facciamo il punto io vedo che Ernesto c'è la manina non so se era la vecchia manina o vuole reintervenire però prima c'è Francesca però prima c'è Francesca la caita che non ha parlato e anche Andrea vuole riparlare allora darei in questo ordine Francesca Ernesto e Andrea d'accordo Francesca prego scusate salve a tutti allora sono d'accordo con tutto quanto avete avete detto ovviamente anche mentre appunto il federalismo o ripensare il federalismo può essere una strada insomma chiaramente può essere la stella polare però penso che non ci arriveremo appunto rimanendo sugli ismi ma sono appunto sono d'accordo con Roberto quando lui parla di articolare tutto su battaglie concrete proprio su diritti sociali sulla democrazia il parlamentarismo e insomma l'avete detto un po' tutti tutti voi quello che volevo sottolineare è che io mi chiedo l'Europa centro-orientale i paesi dell'allargamento quindi che ruolo potrebbero avere in questo processo di trasformazione di trasformazione perché a me da europea mi un po' mi dispiace vedere che tutti i nostri discorsi praticamente nascono dalla parte occidentale dalla vecchia Europa se non dall'Europa carolingia e poi trovano ancora si si infrangono contro una sorta di cortina di ferro insomma questo secondo me è un problema molto grosso che andrà prima o poi affrontato se vogliamo davvero realizzare quello che si è detto volevo anche rifarmi alla relazione di Andrea Matto quando parla quando all'inizio insomma parla di queste ipotesi più allargamento o no all'inizio della tua relazione Andrea austerità o no io non so adesso un po' la butto lì io penso che la deriva verso una un'austerità comunque non toccare le strutture economiche si prospetterà soprattutto in vista del di un probabile allargamento a est cioè se deve entrare l'Ucraina e con l'Ucraina anche altri paesi che sono anni che sono che fanno anticamera questa Unione europea che non è stata capace di dare una risposta diversa alla Grecia come potrà affrontare i problemi enormi di quei paesi con questa costituzione economica attuale ci vorrà appunto un sarà necessario ovviamente tra virgolette un irrigidimento della governance economica e quindi anche addio federalismo addio democrazia europea addio tutto diventa semplicemente questa Unione europea né più nemmeno che un blocco più più o meno a servizio oppure con tutte le cose con tutto appunto le articolazioni che avete detto degli Stati Uniti ecco ho finito grazie grazie vi sollecito a vedere un piccolo commento di Paola Boffa non ve lo dico ce l'avete voi tra le chat Ernesto ho l'impressione che con il webinar di oggi stiamo facendo un salto di qualità questo gruppo sta affrontando problematiche che finora abbiamo sempre previtato di affrontare finora ci siamo occupati questo è un osservatorio europeo quindi ci siamo limitati ad osservare ad analizzare a criticare e mi sembra che sia emersa un'opinione comune mai un atteggiamento di critica documentata e motivata alla struttura politica dell'opinione europea però oggi sono emerse delle domande non dico delle proposte ma delle domande di carattere più propriamente politico l'ho vista sia nel discorso di Andrea che quello di Pastolina altri insomma perché a un certo punto bisogna che noi cominciamo poi la domanda che fare cioè se questa Europa non ci va bene e se abbiamo capito che il metodo cosiddetto migliorista o gradualista non funziona perché le riforme graduali sono delle contro allora che cosa bisogna fare mi rendo conto che questo non è un gruppo politico e che quindi non è tenuto ad avanzare le proposte politiche però le domande possiamo farci e delle proposte possiamo farle che poi ognuno magari potrà portarle dentro le realtà politiche in cui sta però secondo me dobbiamo farci questo e il problema è stato impostato secondo me bene da Andrea quando ha detto che si tratta di definire bene cosa intendiamo per federalismo europeo certo noi non vogliamo un federalismo americana e penso forse neanche una confederazione di tipo svizzero vorremmo qualcosa di più democratico di più partecipato il problema è come ci si arriva o meglio i problemi sono due che noi vedremo prima definire cosa intendiamo per federalismo democratico cosa che finora non abbiamo fatto e forse magari potremmo mettere in campo un webinar o anche più di uno su una discussione su una tematica di questo tipo ma poi c'è il problema più strettamente politico su cosa fare per arrivarci ora qui le proposte fatte finora quelle che ho sentito sono è una sostanzialmente quella di Pasqualina cioè sono i movimenti i movimenti sociali di protesta di contestazione a livello europeo che che portano avanti un discorso più democratico a me però non sembra che una strada del genere sia percorribile e sapete perché perché uno degli aspetti politici importanti di questa struttura europea è che quando il controllo sociale è affidato ai singoli stati vuol dire che in questa maniera si isolano le lotte di ogni singolo stato da quelle di altri stati per cui è estremamente difficile mettere in moto un movimento sociale di protesta a livello europeo l'abbiamo verificata quindi non può essere quella ovviamente se c'è una grande crisi che colpisce simultaneamente tutti i paesi europei può darsi che una cosa del genere parta ma non è che possiamo contare su quello l'altra proposta che è stata avanzata da altre persone da altri gruppi è stata quella dell'Ital Exit che Andrea però ha scattato ora mettiamo in chiaro bene questo punto perché la questione cruciale è come si arriva a un punto di rottura cioè tu non puoi provare a costruire una nuova realtà federale europea se non rompi questa non puoi farlo dall'interno di questo quindi si tratta di trovare il punto di rottura e se il punto di rottura non può partire da un movimento sociale europeo cioè un movimento che parte simultaneamente da tutti i paesi europei allora l'ipotesi dell'Ital Exit diventa proponibile badate non nel senso sovranista io non credo che l'Ital Exit possa essere utile per portare l'Italia fuori dall'Unione Europea e farla crescere per conto suo ormai la globalizzazione è andata così avanti l'Italia è un paese economicamente così piccolo che da sola non può farci quindi non è questo diciamo i sovranisti i populisti secondo me sbagliano completamente però l'Ital Exit può avere un senso politico in quanto può essere l'innesco di un processo di rottura perché è evidente che se esce l'Italia io dico l'Italia potrebbe anche dire Frexit o Grexit o altre cose però la Francia è molto difficile la Grecia è facile si potrebbe fare ma sarebbe ridavante però se esce l'Italia che è un paese ridavante dal punto di vista industriale allora il momento di rottura ci può essere il momento di rottura può essere quello l'uscita di un paese ridavante come può essere l'Italia potrebbe essere l'innesco di un processo di fuori uscita di altri paesi che porta alla rottura dell'Unione Europea e a quel punto ci può impostare un discorso di diciamo di ricostruzione quindi io adesso adesso l'ho proposta non è che l'ho proposta diciamo ne ho parlato così giusto per capire che c'è questo problema tutto appena io però vorrei per le prossime i prossimi incontri di mettere in campo due problematiche uno di definire come la vogliamo noi però definire un tipo di federalismo nuovo perché non possiamo farlo abbiamo l'esperienza di questo che non va bene sappiamo quali sono le cose che non vanno bene e quindi potremmo anche fare un discorso politico di questo tipo e l'altro è un discorso più tecno più strettamente politico del tipo che fare cioè come si può arrivare a un momento di rottura che ci possa portare da questa situazione a grazie grazie Andrea allora io sono d'accordo diciamo sulle proposte operative per noi per quanto ci riguarda le due proposte che ha fatto Ernesto quanto quanto ci abbiamo ci abbiamo cinque minuti ancora sì sì avevamo detto non oltre le diciannove va bene va bene allora io partirei dall'intervento di Francesca Francesca Lacaeta perché sono assolutamente d'accordo con lei da una parte abbiamo l'esigenza diciamo dell'allargamento di non rifare di non ripetere le esperienze che abbiamo fatto con la Turchia come è stato detto e dall'altro però una Europa a 36 come la vuole Scholz praticamente non vabbè è tutto quello che ha detto Francesca in realtà non fa altro che confermare e rafforzare la configurazione dell'Unione Europea come confederazione la confederazione che a differenza della federazione che è diciamo dove il rapporto tra come dire volontà popolare e decisioni è diretto nella la confederazione invece è mutuato e interpretato dal potere dei governi quindi è il trionfo dell'intergovernativismo la confederazione ora da tutto quello che abbiamo detto l'Unione Europea oggi è già confederazione da tempo che è confederazione e allora il problema non è facciamo non facciamo l'allargamento allargamento si deve fare perché questi dei Balcani non possono non entrare nell'Unione Europea allora siccome appunto mi sono rimasti quattro minuti non posso che essere come dire un po' mi sfugge la parola ma insomma voglio voglio essere tranchant non riesco a trovare la parola italiana allora il problema secondo me è proprio il fatto che tutti riescano a prendere coscienza di questa realtà della confederazione e allora quello che Ernesto chiama l'uscita non è un'uscita ma è fare un'altra cosa è restare nella confederazione e accanto vedere con chi ci sta fare la federazione allora detta così può essere una cosa dice vabbè ma questo è idealismo puro no la questione è che bisogna partire dal fatto e che anche Ernesto diciamo quando dice la Grecia l'Italia no 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 non può essere la Grecia l'Italia eccetera perché chi della Grecia fa questo i governi i governi non faranno mai non ci sarà mai un governo che proporrà di fare la federazione perché è una contraddizione in termini insomma la federazione significa la fine del potere diciamo nazionale così come oggi è i partiti di maggioranza no per le stesse per le stesse regioni e poi perdiamoci chiaro tutto questo si tiene come dire nella coerenza nella fedeltà con un capitalismo europeo globalizzato eccetera le cose non sono mai non sono mai separate allora non c'è che una strada che è quella di partire dal basso di partire dal basso significa mettere in moto l'azione della società civile dei sindacati delle associazioni al mondo delle associazioni insomma adesso andiamo verso fra un anno e mezzo le elezioni europee ma porca miseria non non possiamo non possiamo cominciare da adesso a fare un lavoro diciamo di promozione dell'idea federale basata proprio sulle cose concrete eccetera eccetera io non non lo so ma noi andiamo ad eleggere un parlamento europeo al quale alcuni vorrebbero affidare il potere costituente per fare da lì la federazione cosa folle con questo parlamento ma anche con quelli che verranno quindi bisogna insomma per farla breve io penso che noi abbiamo l'esigenza di capire almeno teoricamente dove vogliamo andare definendo che cosa è per noi un processo un'idea diciamo di federalismo che non è probabilmente lo Stato nazionale e io ho fatto nella mia relazione una serie di una lista di terminologia con cui si definiscono le ipotesi federaliste no unione federale europea federazione anzi no repubblic federativa europea e così via ognuna di queste c'è c'è una teoria dietro benissimo facciamo un approfondimento due sappiamo che questo obiettivo non si raggiunge né nella prossima due anni e mezzo cioè da qui alle elezioni europee forse nemmeno nei prossimi dieci anni ma se noi lo poniamo come diciamo obiettivo chiaro fin d'ora e tutta l'azione diciamo del movimento a livello non solo nazionale ma di alcuni stati o degli stati dove ci può essere diciamo questo interesse che parta dal basso e beh forse si arriverà a un momento in cui la federazione si potrà fare a tre a quattro non ha importanza a quel punto sarà quella federazione che parteciperà all'interno della confederazione e la confederazione andrà avanti insomma non dobbiamo avere paura che la confederazione diventi sempre più confederazione come diceva il Vangelo lasciamo che i morti seppelliscono i morti insomma però è bene che ci sia qualcuno che pensi ai vivi ho finito ebbene meglio di così come potevamo concludere